Buongiorno amici, bentornati in una nuova puntata di Meglio di Niente, il podcast di Clara in the Mirror, che sarei io, che potete ascoltare qui su YouTube oppure su Spotify. Se mi stai ascoltando da Spotify ti ricordo che su YouTube trovi molte più puntate, quindi ti consiglio di fare un salto anche di là. Oggi voglio fare una puntata riferita a dei consigli che mi avete lasciato voi sulle storie di Instagram che appunto ho fatto qualche settimana fa. Vi ricordo di seguirmi anche lì, mi trovate sempre come Clara in the Mirror. L'argomento che ho scelto è come lasciare un lavoro in azienda per fare ciò che ci rende felici. Prima però volevo anche consigliarti la mia newsletter che puoi leggere gratuitamente inserendo la tua mail nel link che trovi nell'info box. Sarò onesta, non ho una risposta a questa domanda, nel senso che farò riferimento alla mia esperienza, alla mia vita e quello che posso consigliarvi una volta passato, il periodo peggiore, cioè quello della scelta di licenziarsi per provare a lavorare in proprio. Dopo diversi anni in cui ho lavorato per un'azienda ero arrivata al punto in cui non mi sentivo appagata, non mi sentivo nel mio giusto ruolo, né pensavo che le mie capacità fossero ricompensate adeguatamente rispetto a quello che stavo facendo. In realtà sprecavo tantissime ore della mia vita a non fare nulla, ma in realtà a lavorare in quell'azienda, non mi sentivo arrivata semplicemente, avevo un'età, per me è stato molto difficile perché dopo anni di lavoro mi sono ritrovata a sedermi su una sedia e dire Clara, hai fatto da merda, ve lo dico proprio sinceramente, cioè ho passato proprio un momento di crisi nera perché mi sono sentita una perdente, mi sono sentita una persona che non aveva portato a termine gli obiettivi che si era data, che sicuramente a 29 anni si sarebbe dovuta trovare in un altro posto, non sicuramente lì, e che in realtà non aveva combinato niente, che poi non è così, cioè in realtà io ho sempre lavorato, però ecco sì, non mi sentivo nel posto giusto, al momento giusto, non so se avete presente quando vi dite, è proprio qui che dovrei stare, no, sapevo solo che ecco Torino mi aveva regalato tante cose positive, ma il lavoro non era una di queste. La mia scelta è stata dettata puramente da una necessità mentale, quindi quando vi dicono prima di lasciare il vostro lavoro di fiducia o il vostro lavoro fisso dovete avere un piano B, dovete sapere già che cosa fate perché se no non si può più... Ragazzi, io vi dico proprio sinceramente, io non avevo idea di cosa avrei fatto, ma la mia salute mentale era decisamente a rischio, non stavo bene mentalmente, ho vissuto dei momenti e dei mesi molto molto difficili, infatti è proprio in quell'anno lì in cui ho deciso di iniziare terapia, perché ero al limite dell'esaurimento, ero in burnout, ero proprio... avevo perso ogni speranza. Ricordo che una mia carissima amica che poi si era trasferita a Londra forse un anno o due prima di me, sì, lei si era licenziata, perché anche lei aveva vissuto lo stesso destino mio, in realtà su questo ci siamo molto trovate, lei è una persona che ha sempre studiato, si è sempre impegnata, ha sempre fatto due lavori, però anche lei in quel momento della vita non era soddisfatta, non era dove voleva essere, quindi io le avevo dato questo consiglio, avevo detto ma vai, parti, buttati, io credo in te, io so che tu ti meriti dieci volte di più di questo, e in realtà poi si è dimostrato vero, perché in realtà poi ha ottenuto tantissimi risultati ed ha una vita decisamente più felice di quello che aveva prima. Quando però si tratta di dare consigli su se stessi, mi rendo conto che sia molto più difficile, perché ti rendi conto di tutte le cose che puoi perdere. In questo caso io perdevo uno stipendio, quindi perdevo la mia indipendenza. Diciamo la verità, il mio esaurimento mi ha portato ad andare dai miei genitori, vi racconterò le cose come stanno, e dire ragazzi, io sono alla frutta, sono arrivata al punto in cui, oppe te, ci siamo capiti. Quindi voi sareste disposti a darmi una mano nel momento che intercorre tra il licenziamento e la ricerca di un nuovo lavoro? Perché io so che troverò un nuovo lavoro, ecco su questo ero certa, perché non mi ritenevo una persona stupida, né una persona non in grado di rifarsi una vita. Magari sì, avevo trent'anni, quindi era un po' difficile, però vi giuro, io ci credevo in me, sapevo che potevo meritarmi molto di più, quindi il mio discorso era semplicemente quello che dovevo licenziarmi da una parte per poter trovare un nuovo lavoro dall'altra. Quindi sono andata dai miei e gli ho detto ragazzi, voi mi aiutereste in questo periodo? E loro, se inizialmente chiaramente non mi hanno appoggiato, ma proprio per niente, ci hanno detto, ma Clara, noi ti abbiamo appena comprato una casa, perché sì, i miei genitori mi hanno comprato una casa, non so cosa dirvi, spero non mi odierete, ma sì, sono figlia unica, i miei genitori hanno risparmiato una vita intera e hanno deciso di comprarmi una casa, quindi avevo una casa che avrei dovuto poi pagare, in cui avrei dovuto vivere, ma non avendo io uno stipendio, un lavoro, non sapevo come fare, quindi glielo ho chiesto, ovviamente limitando la mia qualità di vita, però gli ho chiesto ragazzi, voi mi potreste dare una mano? Anche perché io prendevo dei soldi una volta licenziata, quindi avrei utilizzato quelli per cercare un altro lavoro e nel caso in cui non mi fossero serviti avrei chiesto i miei. In realtà poi, quando io ho deciso di licenziarmi, poco tempo è passato da ricevere nuove proposte di lavoro e credetemi, io ero esterrefatta, non ci potevo credere, perché da una parte dicevo, mio Dio, sei una fallita, non hai combinato niente, tu ti ritrovi adesso a dover cercare un altro lavoro, a dover iniziare da zero. Dall'altra invece ricevevo proposte di lavoro, che in realtà poi ho messo in pratica e ho vissuto da quando mi sono licenziata fino ad oggi, capendo oggi, nel 2024, quale fosse il mio destino o quale potesse essere il mio obiettivo di lavoro, un lavoro che mi permettesse di essere appagata e che mi facesse anche guadagnare. Direi il top insieme. Io non ve lo voglio dare il consiglio, perché mi rendo conto che non tutti hanno la fortuna di avere magari una famiglia che in questa circostanza vi avrebbe potuto aiutare, quindi mi rendo conto di essere fortunata, però nel caso in cui ce l'abbiate o nel caso in cui abbiate persone che possano darvi una mano, possano non farvi sentire solo in questo momento, ecco utilizzatele per darvi da fare e cambiare la vostra vita. Io penso che non ci sia un'età vera e propria dove iniziare qualcosa, però penso anche che per aggiungere dei risultati ci voglia tanto tempo. Io la pazienza non è una cosa che ho e quindi ci sono dei giorni in cui mi sento leggermente indietro, cioè molto indietro, rispetto a dove vorrei essere in relazione alla mia età. Perché ovviamente ho perso tanto tempo a cercare di percorrere una strada che poi mi sono resa conto non mi avrebbe garantito né la felicità né la realizzazione. Non ho fatto molto caso ai miei bisogni, mi sono molto mossa in relazione a quello che la società avrebbe voluto per me, quindi quello che era giusto fare per dimostrare di avercela fatta. E in realtà poi avercela fatta era più per me che per gli altri, che la felicità era la mia, quindi che avrei dovuto scegliere più che cosa c'era nel mio cuore rispetto a quello che avrei potuto dire alle altre persone che facessi. Non mi sento di dare consigli su come licenziarsi per diventare persone felici perché secondo me ogni condizione è diversa. Io sono anche una persona sola, quindi non ho una famiglia a carico, perciò posso anche permettermi di mettermi in gioco. Ma allo stesso modo vi posso dire che io ho conosciuto nell'arco di questo tempo di cambiamento tantissime persone che conosco, quindi che sono veramente esistiti, cioè esistono, non sono nella mia mente, che si sono anche loro licenziate perché erano infelici, non avevano un piano B e ne hanno trovato uno nel corso del tempo. Anche loro hanno avuto magari degli aiuti, ma in realtà poi non sono neanche serviti perché vi dirò, io mi sono licenziata a luglio, io a settembre già lavoravo e già lavoravo, questo è incredibile, per delle agenzie grazie a TikTok. Cioè una cosa che io non avrei mai neanche immaginato, cioè io ho iniziato a fare video su TikTok perché ero una persona profondamente disturbata a livello mentale perché uscivo da un licenziamento, io mi ero licenziata, ma comunque per me era costata molta fatica, cioè mi sono sentita veramente una perdente. E quindi ho iniziato a fare video su TikTok raccontando la mia vita, quindi il fatto che io avessi studiato visual merchandising, che fossi una persona che si è messa in gioco, che ha fatto un determinato lavoro e che cosa significasse fare quel lavoro. Quindi ho iniziato a parlare della mia professione. In realtà poi mi sono stata contattata dall'azienda per realizzare dei video, per conto di terzi che poi è diventato l'UGC creator, quindi user generated content, che è quello che ho iniziato a fare io, senza sapere che fosse quello il lavoro, che ad oggi viene chiamato così. Quindi vi giuro che la vita ha un percorso per tutti. E per quanto io lo ritenga difficile, perché se io faccio riferimento al mio percorso, io stessa mi do molte colpe, perché mi dico Clara avresti dovuto fare questo, questo e questo, ma nonostante io mi dia molte colpe, in realtà mi rendo anche conto che quello che è il nostro destino arriva prima o poi. E forse il mio destino non era ottenere queste consapevolezze a 20 anni, ma lo è stato a 30. Anche perché ho una testa diversa e le cose le faccio con un'intelligenza diversa rispetto a cosa avrei potuto fare a 30 anni. C'è anche da dire che questo lavoro che io attualmente faccio, cioè il content creator, lo faccio da tantissimi anni. Ho un'esperienza come autodidatta che ha 15 anni. Sono un'appassionata di tecnologia, sono un'appassionata di montaggio, di fotografia, video, audio. Quindi io da sempre studio, faccio corsi, seguo tutorial. Magari ecco non realizzo dei capolavori, ma me la cavo. Quindi non è stato neanche un colpo di fortuna. È stata una conseguenza di tutte quelle che erano le mie preparazioni al di fuori del visual merchandising, che poi mi ha aiutato nella materia dell'economia e della comunicazione. Perché in realtà quando io ho fatto video sono riuscita a salire molto di più, perché io quando realizzavo degli script video ci mettevo il concetto che ho studiato nel visual merchandising, cioè quello della creazione di un bisogno fittizio per far comprare un determinato prodotto. E questo, io devo essere sincera, mi ha aiutato molto ad essere scelta rispetto ad altri creator. Perché diciamo questa capacità, questo modo di pensare, magari queste persone non ce l'avevano. Sono contenta? Attualmente sì. Non mi sento arrivata, perché vorrei molto concentrarmi sul podcast, che è quello che mi piace di più. YouTube è il mio amore principale, lo continuo a ripetere. Quindi non mi sento arrivata, non mi sento realizzata, ma vi dico che io un piano B l'ho trovato lo stesso, anche se mi sono licenziata senza averlo. Perciò non abbiate paura di mettervi in gioco, non abbiate paura di credere in voi stessi. Buttatevi con la consapevolezza di avere comunque una pista di atterraggio. Spero che questa puntata vi sia stata utile, vi abbia aperto un pochino gli occhi, vi abbia aiutato a mettervi in gioco per cercare di vedere quello che vi rende felici. E magari un giorno ottenerlo. Non mollate mai. Credete sempre in voi che tutto arriva. Speriamo. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Voi mi trovate su tutti i social. Come vivete la relazione con il vostro lavoro? Vi piace? O vorreste cambiarlo? O se poteste scegliere che cosa vorreste essere? Scrivetelo nei commenti qui sotto. Se vi va mettete mi piace, condividete il video con i vostri amici. Io vi saluto, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!